Il cardiologo Gaetano Alaimo è stato ucciso nel pomeriggio a Favara, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, il medico sarebbe stato ucciso a colpi di pistola da un paziente, Adriano Vetro, di 47 anni. La furia omicida sarebbe scaturita a causa di una lite nata dalla diagnosi di scompenso cardiaco comunicata dal medico. L'uomo incensurato sarebbe stato fermato dai carabinieri all'interno della sua abitazione, nelle campagne di Favara. Lì è stata ritrovata anche l'arma utilizzata per commettere l'omicidio. Vetro poi è stato interrogato nei locali della locale tenenza dei carabinieri. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della locale tenenza e i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento. Il procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella è il sostituto procuratore Eliana Manno.